Questa me l'ha data la sua banca e i suoi indipendenti mi hanno chiesto di fare questa cosa qua. Si è scritto complimenti per la pettinatura. Da quanto tempo che è lo stesso pancchiere di Donald Trump? L'ho pensato prima che me lo faccia. Proprio ieri ci siamo visti a Trieste, oggi tra terze consiglie, assistamente di bilancio e quant'altro, non è potuto essere qui ma veramente non è un'assenza. Mi dispiace a tutti e mi porto il mio saluto congiuntamente al collega presente che ha già citato il sindaco Cagnelotti da parte del Presidente della Regione. E c'è che questo era semplicemente l'area di controllo di un'area più ampia che è il territorio agricolo. È un dato di coscienza piuttosto originale e certamente oggi più diffuso che un tempo ma che recupera e che tiene insieme, come nelle ville palaziane, il tema del corpo dominicale e delle barchesse. Noi di Progetto Autismo abbiamo sperimentato la radio come strumento di sviluppo con radio magica. Abbiamo scoperto che grazie alla radio i nostri ragazzi autistici parlano meglio perché sanno di essere ascoltati. La rotola prende poi rapporto con la tropezza femorale che si trova nel terzo medio del femore distale e poi il legamento cuotellare si insedisce a livello della tuberosità tibiale che noi abbiamo ipotizzato essere a livello del terzo medio della teglia prossima. Quindi il rischio è che arrivate in chiesa e che il vostro finanziato non vi riconosca ragazze. Quindi attenzione a mettervi nelle mani sbagliate. Quindi truccatori e parrucchieri è un argomento delicatissimo, maestro a fare. Sempre siate voi stesse anche il giorno del matrimonio. Non solo per quanto riguarda la personalizzazione architettonica che ci permette di realizzare progetti dallo stile classico o dallo stile anche moderno con coperture piane o con tetti a giardino. Buongiorno cari amici dello Schiopettino di Preppotto. Siamo con Anna, stiamo per presentare l'azienda Grillo e Iole. Dico bene? Cara Anna, ci presenti l'azienda? Salve, mi chiamo Anna, appunto. Sono la proprietaria dell'azienda Grillo Iole. Siamo ad Albana di Preppotto. L'azienda è composto a... Dal 2018 il mercato tutelato verrà abolito. Quindi nessuno di noi avrà più la possibilità di accedere a quello che è un mercato che abbia dei prezzi calmierati. Questo, secondo il legislatore, dovrebbe aprire alla libera concorrenza e questo, sempre secondo il legislatore, dovrebbe far abbassare quelli che sono i prezzi di acquisto dell'energia.